Musica Ben ritrovati dalla redazione, un gruppo di insegnanti provenienti dalle varie province del Veneto si è radunato nella tarda mattinata di oggi sotto l'ufficio scolastico regionale poiché allarmati e preoccupati dall'introduzione del Green Pass per tutto il personale scolastico non ci lasciano entrare a scuola, hanno detto, perché non vogliamo obbedire un decreto legge che riteniamo contraddittorio abbiamo dubbi sul fatto che il certificato verde raggiunga l'obiettivo dichiarato dal decreto ossia di tutelare la salute pubblica non sarebbe forse più efficace, meno invasivo e democratico utilizzare un test salivare o l'analisi sierologica? del resto la scuola nei mesi scorsi è risultata uno dei luoghi più sicuri rispetto alla possibile trasmissione del virus grazie a piccoli gesti di accortezza risulta in quest'ottica più incomprensibile la spinta alla vaccinazione dei giovani sottolineano lanciando un appello la divisione sociale che si sta in asprendo causa Green Pass può portare a fenomeni crescenti di bullismo e discriminazione il gruppo per spiegare le proprie richieste si appella ai valori di una scuola democratica inclusiva che non discrimina e in nome di questo anche con l'iniziativa di oggi ha chiesto un incontro al dirigente dell'ufficio di Treviso che è stato alla fine accolto mezz'ora di dialogo in cui i docenti hanno lasciato le loro istanze e l'esposto presentato dall'avvocato Daniele Granara entrambi infine protocollati entra nel vivo il processo ad Alejandro Stefan Meran a quasi due anni dall'omicidio a Trieste degli agenti Rotta e De Menego avvenuto in questura il 4 ottobre del 2019 nella prima udienza che ha avuto luogo oggi non era presente l'imputato che tuttavia in una lettera presentata dai suoi legali Alice e Paolo Bevilacqua ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime i difensori di Meran hanno quindi chiesto di rinnovare la sua perizia psichiatrica per dimostrarne la totale capacità di intendere e volere su questo punto la Corte d'Assise presieduta dal giudice Enzo Truncellito si è riservata di decidere in occasione della prossima udienza fissata per il 18 di ottobre in questa sede non saranno sentiti tutti le oltre 60 teste soltanto le parti civile costituita dalle famiglie degli agenti Rotta e De Menego rappresentate rispettivamente dagli avvocati Birolla e Nicolin dall'agente Resmini ferito durante la sparatoria e difeso dall'avvocato Mantello dall'avvocatura di Stato per il Ministero degli Interni con l'avvocato Meloni e infine l'associazione Fervi Credo feriti e vittime della criminalità e del dovere che sarà rappresentata dall'avvocato Biscotti non ammesso tra le parti civili il sindacato autonomo di polizia il cui segretario provinciale Lorenzo Tamaro ha commentato la mistibilità è un formalismo processuale il SAP è stato e sarà presente per fare chialezza non vogliamo vendetta ma solo giustizia stava arrampicando a quota 1600 metri di altitudine nella nuova falesia attrezzata sulle pareti del Col Lopic nel territorio di Chiusaforte quando si è fratturata una caviglia si tratta di un uomo di nazionalità austriaca è così stato attivato il soccorso alpino della stazione di cave del Predil che ha operato assieme alle guardie di finanza di Sella Nevea e dell'eli soccorso regionale erano sospettati di tenere le fila di una piccola rete di spaccio di marijuana sono stati tenuti sotto controllo pedinati e i carabinieri hanno monitorato anche i movimenti intorno alla loro casa Mirano ieri i militari hanno deciso di compiere un blitz e sono entrati nell'abitazione di proprietà di una coppia incensurata una volta avvarcata la soglia dell'abitazione gli investigatori hanno da subito percepito nell'aria l'inconfondibile aroma della pianta di marijuana arrivati in giardino hanno trovato una serra attrezzatissima con impianti di irrigazione e illuminazione a favore di 6 piante alte 3 metri molto rigogliose nonché tutto l'occorrente non solo per farle crescere ma anche per trattare le preziose foglie una volta essiccate conservate in contenitori e vasi 4 dei quali con altre tante piante in germoglio infatti insieme alla coltivazione i carabinieri hanno sequestrato 40 grammi di foglie in fase di essiccazione nonché 3 grammi di hashish hanno preso via questa mattina le operazioni di sgombero della palazzina nell'area ex Edison a Marghera in via Mameli a cura degli uomini della polizia locale di Veritas l'edificio versava in condizioni di grave degrado si è provveduto alla bonifica dell'edificio occupato abusivamente da alcune persone che nei giorni scorsi avevano causato un principio di incendio che aveva avuto origine da un materasso nell'edificio sono stati rivenuti infatti oltre 40 materassi tra quelli utilizzati dagli occupanti e altri accattastati rimorsi anche diversi metri cubi di immondizia accumulata negli anni le stanze erano in condizioni igieniche disastrose tra rifiuti ed escrementi sparsi ovunque lunedì proseguiranno i lavori di verità se l'ufficio lavoro pubblici del comune provvederà alle chiusure con opere murarie e reti elettrosaldate torna in carcere Sergio Miglioranza il settantenne che venne arrestato nel marzo scorso al termine di un'indagine della procura di Treviso che lo vedeva come responsabile di aver appiccato l'incendio in cui ha perso la vita la moglie ed un'amica Franca Fava 68 anni Fiorella Sandre di 74 l'episodio era avvenuto nel giugno del 2020 i carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno eseguito nella mattinata di oggi un'ordinanza del Tribunale del Riesame di Venezia del maggio scorso che in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica Trevigiana Anna Andreatta ha ripristinato la misura della custodia in carcere nei confronti dell'uomo è tutto per il nostro appuntamento con le notizie di oggi a nord-est appuntamento alla prossima edizione previsioni per oggi nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli sereni in serata sulle coste bel tempo con cieli sereni o velati in montagna bel tempo con cieli quasi sereni previsioni per domani al mattino sulle coste cieli nuvolosi per il transito di estese velature in montagna schiarite con transito di velature sparse nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni o velati in montagna bel tempo con cieli sereni o velati Grazie a tutti